Tu dammi da bere, tu oggi hai per dare da bere al Signore, hai tu dentro di te una fonte che zampilla acqua continuamente per poter dare da bere a Gesù che viene a te attraverso tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, attraverso le necessità dei fratelli. Hai acqua, cioè vita da donare, forse no, specialmente quando l'altro viene all'improvviso e ci spiazza con le sue domande, con le sue richieste, con i suoi bisogni e i matrimoni, le relazioni falliscono proprio qui, quando finisce l'acqua, quando non abbiamo più nulla da dare all'altro, quante litigate, sofferenze, proprio perché non abbiamo in noi la vita, l'amore da offrire al fratello che è accanto a noi. Per questo il Signore oggi ci visita con questa domanda e ci aiuta ad entrare nella verità, a scoprire come la donna samaritana di avere sì avuto cinque mariti, cioè di avere sì tante relazioni, ma nessuno sposo, cioè nessuno al quale donarci completamente e gratuitamente. Facciamo cioè delle persone con le quali abbiamo relazioni, degli idoli, alle quali noi chiediamo la vita senza poterla dare. Eppure il segreto di una vita compiuta, realizzata, è tutto qui nell'avere dentro di noi una sorgente inesauribile di vita da poter donare. Siamo stati creati per amare, è l'unica nostra felicità, quella che dà compimento, sapore e sostanza a tutta la nostra esistenza. È un amore gratuito, inesauribile, con cui poter amare gli altri in qualunque momento essi abbiano bisogno della nostra attenzione, della nostra pazienza, del nostro perdono, della nostra misericordia. Scoprire di non avere quest'acqua è un dono enorme, perché la verità ci fa sempre liberi, liberi di chiedere a colui il quale ci chiede l'acqua. Esattamente come è accaduto alla samaritana. Signore donami la tua vita, perché senza di questa io resterò sempre infelice nelle mie frustrazioni, nelle mie angosce, nei miei fallimenti. Ecco da dove nasce la vera e sincera preghiera, dal bisogno dell'acqua viva, per non tornare sempre agli stessi pozzi ad attingere la stessa acqua che non ci sazierà mai. Chi beve dell'acqua dell'amore umano, della stima, del prestigio, del successo, dei vari idoli di questo mondo, avrà ancora sete, ne sarà dipendente e non sarà mai sazio. Invece chi riceve dal Signore lo Spirito Santo vedrà dentro di sé apparire una sorgente di acqua viva che zampilla per la vita eterna, cioè per sempre, un pezzettino di cielo dentro di noi. Questo è il frutto della Pasqua che celebreremo tra poco. Chi ha lo Spirito Santo potrà donare senza sforzo naturalmente la propria vita, perché ricolma della vita di Cristo, ricolma del suo amore.